buona serata a tutti cari amici fan che serata e che giornata come tutti i giorni del resto ma che ve lo dico a fare vabbè va l'anadol uefs continua a vincere in eurolega vince anche a mosca in casa zesca mosca per 82 80 con questi scusate pc qualche avviso allora con questi parziali 16 25 37 41 57 58 finale 80 82 quindi in classifica l'anadol uefs sempre prima anzi re sempre sempre più prima con 20 vittorie su 23 partite solo e tre sconfitte invece zesca mosca che quest'anno zoppica un po 16 vittorie e 7 sconfitte anadol uefs che sarà impegnato tra due giorni in casa contro lo gialgiris camas che occupa la posizione numero 13 8 vinte 14 perse invece zesca mosca che si è arreso dopo quattro vittorie di fila andrà in casa dell'olimpiacos sempre tra due giorni olimpiacos che occupa la posizione numero 11 9 vinte 13 perse concludiamo dicendo che proprio questa sera le 20 e 45 giocherà l'olimpia milano in casa contro l'alba berlino comunque ne parleremo domani di milano c'è già in programma sul canale un video già pre registrato sulla dubbio che domani renderà pubblico quindi ribadiamola da l'anadol uefs prosegue nel suo cammino diritto verso la seconda fase dell'eurolega vince anche a mosca per 82 80 domani buona serata buonanotte a tutta la prossima ciao